È stato un battesimo di fuoco per Federica Sgorbati, neo-assessore comunale ai servizi sociali, infanzia, pari opportunità e abitazioni. Non ha fatto nemmeno in tempo ad ambientarsi che è scoppiato subito il caso dell'asilo di Borgotrebbia, chiuso per il calcestruzzo scadente. In poche ore ha dovuto risolvere almeno temporaneamente il problema, spostando i piccoli alla besurica e disponendo il trasferimento per l'anno prossimo in via Ottolenghi. Le operatrici della cooperativa Osi hanno chiesto di non spostare l'attività rispetto a prima. Lei risponde così. Tra le varie decisioni che prenderemo ci sarà anche quella di dove ricostruire, ricostruire o riadattare quello che sarà la sede in Borgotrebbia. Avvocato civilista, Sgorbati scende in politica con l'iscrizione a Forza Italia contestuale alla partecipazione alle elezioni regionali del 2014. Deleghe importanti le sue che la porteranno ad essere completamente assorbita da mille impegni che però non la spaventano. ha le idee chiare su diversi punti. In primis, attenzione massima agli anziani, cercando di farli restare il più possibile nel dito familiare rispetto alla collocazione in una struttura. Credo che sia opportuno favorire quella che è l'assistenza domiciliare, quindi cercando di mantenere l'anziano il più possibile, ovviamente compatibilmente con tutte le problemi che possono avere, però cercare di mantenerli all'interno della casa, chiamiamola familiare, perché credo che questo sia per l'anziano il modo migliorativo rispetto ad entrare in una struttura. Anche il nodo casa è molto spinoso. Sgorbati punta ad agevolare prima di tutto i piacentini. Ho ricevuto in ufficio due signore che mi hanno, per l'ennesima volta, reso partecipe del problema, cioè del proprio vissuto direttamente, dell'assegnazione delle case popolari magari con maggiore riguardo a soggetti non piacentini e quindi anche su questo noi ci impegneremo a cercare di risolvere questa problematica, il nostro concetto è sicuramente sempre prima piacenza.